In questi mesi si è parlato molto anche della crisi delle concessionarie a causa della pandemia ed in Italia si stimola la riduzione del fatturato del 27% circa rispetto al 2019. A Pistoia però la situazione non risulta aver avuto particolari variazioni rispetto agli anni passati ed il settore non ha subito grandi contraccolpi. Era in previsione che ci fosse questo calo dovuto a questa pandemia. Con i nostri nuovi modelli siamo riusciti a contenere le perdite sperando in un 2021 migliore, sperando che con questo vaccino possa riprendere la vendita e tutto come era prima. Noi sicuramente abbiamo avuto un ribasso minore a questa percentuale, sicuramente siamo intorno al 10% però siamo contenti. Tutto sommato il 2020 è stato un buon anno e il 2021, grazie anche agli incentivi, ci sta aiutando a coprire l'anno che è stato il 2020. Quindi per ora noi tutto sommato siamo contenti. Noi abbiamo purtroppo registrato nel 2020 un calo di fatturato di circa il 12%, quindi anche per noi è una situazione comunque complicata. Però abbiamo cercato di reagire, abbiamo impostato le nostre politiche di vendita orientate verso il cliente, cercando di soddisfare anche quell'esigenza di trattative a distanza che ci hanno permesso di compensare un pochino la limitazione alla circolazione. Questa è una concessionaria che c'è da 30 anni. Quest'anno festeggiamo i 30 anni di auto-equipe sul territorio di Pistoia, concessionaria unica per Pistoia e provincia dal 1991. I ristori da parte del governo? I ristori sono legati prevalentemente all'emanazione degli aconcentivi, quindi un meccanismo che consente di rivitalizzare un mercato che è abbastanza fermo, che ha risentito della limitazione alla mobilità. I ristori statali sono stati l'anno scorso, quest'anno sono stati riproposti dal 18 gennaio, stanno andando bene, si sta lavorando, secondo me il mercato vero va visto dopo marzo.